Quali problemi influenzano la cartilagine della caviglia? La cartilagine della caviglia è un tessuto duro e flessibile che si trova all'interno dell'articolazione della caviglia di una persona. Fornisce un effetto ammortizzante, evitando che le caviglie si sfregino e aiutino ad assorbire gli urti creati quando una persona si muove. A volte, questa cartilagine può strapparsi o separarsi dall'osso a cui è attaccato a causa di una lesione come una frattura o distorsione. Può anche logorarsi da solo per un lungo periodo di tempo a causa dell'età, dell'esercizio e dei movimenti ripetitivi. Un tipo di condizione della caviglia si verifica quando la cartilagine della caviglia diventa eccessivamente usurata. Quando ciò accade, le ossa perdono la loro ammortizzazione e iniziano a sfregarsi l'una contro l'altra. Oltre a questa normale macinatura, le sezioni della cartilagine della caviglia possono staccarsi dal pezzo principale e spostarsi nell'articolazione della caviglia di una persona. Questo provoca dolore e infiammazione. Il liquido può anche accumularsi nel rivestimento dell'articolazione della caviglia, causando rigidità e rigonfiamento della zona. L'usura della cartilagine della caviglia non è solo problematica per l'articolazione della caviglia. Può causare problemi anche ad altre parti del corpo. Ad esempio, la continua usura della cartilagine della caviglia può ridurre eccessivamente lo spazio all'interno dell'articolazione della caviglia. A turno, altre articolazioni del corpo diventano sbilanciate. Alla fine, la gamba e il piede di una persona possono anche sviluppare anomalie, che possono essere non solo dolorose, ma anche debilitanti. Come la cartilagine in altre parti del corpo, la cartilagine della caviglia può lacerarsi. Questo può accadere a causa di un infortunio nell'area. Ad esempio, la cartilagine può strapparsi quando la caviglia è fratturata o slogata. La cartilagine in quest'area potrebbe lacerarsi, tuttavia, in assenza di lesioni evidenti. In realtà, una lacrima può anche svilupparsi spontaneamente. A differenza di altre parti del corpo, il flusso sanguigno alla cartilagine della caviglia è solitamente inadeguato per la guarigione delle lacrime. Invece di guarire da solo, la cartilagine in quest'area potrebbe allentarsi dall'osso che lo circonda. Questo lascia le osse a macinare insieme e liberare pezzi di cartilagine per galleggiare intorno alla caviglia. Il risultato è dolore alla caviglia e gonfiore nella zona. Le lesioni e le condizioni che coinvolgono la cartilagine della caviglia possono essere difficili da diagnosticare usando normali raggi X. Per vedere e diagnosticare lesioni alla cartilagine alla caviglia, i medici possono utilizzare la risonanza magnetica, risonanza magnetica, che impiega campi magnetici e onde radio per creare immagini della caviglia. In alcuni casi, un medico può ordinare una scansione di tomografia assiale compoterizzata, CAT, anziché in aggiunta a una risonanza magnetica. Una scansione CAT è un tipo speciale di tecnica a raggi X che consente ai medici di ottenere immagini trasversali della caviglia.